Ma senti, dicevi che c'è stato un brutto scherzo che abbiamo fatto? Sì, adesso diciamo appunto che non sappiamo bene chi sia stato, appunto, cosa avevano intenzione di fare, ma ci hanno messo dello zucchero in una tanica, quindi ci è andata bene anche da quel punto di vista lì. No, perché? Spiegalo bene, perché voi avete avuto veramente un colpo di fortuna pazzesco. Quella tanica lì, appunto, non l'abbiamo usata e veramente ci è andata benissimo. Fidiva solo che la prestassero, eh? Da mezzina si ritieni. Ma sai chi se ne è accorto? Sì, se ne è accorto appunto Amerigo qualche giorno fa andando a girare, scuotendola sentiva appunto che si muoveva qualcosa. Amerigo, caramella, Amerigo, che sempre pronta agli scherzi vigliatti, mi si dà dei fratelli prima di mezzina, fa sempre... Esatto. Hai capito? Sì, sì. Pensava fosse ruggine, invece... Noi, Daniela, ci ridiamo. Noi ci ridiamo, però sono bastardate. Perché tu pensa, Dani, se avessero usato la tanica lì, intanto ti va a putange tutta la trasferta e poi rompi il motore... E rischi anche a farti male. Rischi di farti male e so soldi comunque. Cioè, comunque è veramente una bastardata. Io pensavo che lo zucchero di sabatoio nelle taniche fosse roba di anni 60, invece c'è ancora. Quindi diamo un consiglio a tutti quelli che vanno a fare le gare, dateci un occhio perché ci sono ancora in giro questi figli di buona donna, c'è stato un islamico sicuro. Però che brutta cosa, dai. Ma perché fare uno scherzo del genere? No, non è uno scherzo, è che probabilmente, sai, vogliono azzoppare un equipaggio e... Quelli forti, proprio. Quelli forti. Un caso strano, a me per dire, non la metterebbero, no? Anzi, anzi, a voi lo zucchero vuoi mettere la parte?